la voce suono consigli formazione e buone pratiche per utilizzare al meglio la tua voce ciao a tutti eccoci arrivati ad un nuovo appuntamento della voce suono il nostro spazio in cui ci occupiamo di voce delle sue caratteristiche delle sue capacità di comunicazione e del modo con cui possiamo migliorare l'utilizzo della nostra voce stessa uno spazio insomma per riflessioni buone pratiche consigli e anche suggestioni ed è proprio da una suggestione che partiamo oggi molti di voi ricorderanno un bellissimo film del 2013 sette anni fa dal titolo hair lei tradotto in italiano con la sceneggiatura originale di spike jones in cui il protagonista un personaggio piuttosto solitario schivo che di mestiere fa lo scrittore uno scrittore un po particolare uno scrittore che scrive lettere d'amore per conto di altri che le scrive dettandole con la voce al proprio computer computer che poi le trasforma in delle vere e proprie lettere d'amore questo protagonista che a un certo punto dopo aver installato sul proprio computer e sul proprio telefonino un nuovo sistema operativo si innamora della voce di samantha la voce appunto di questo sistema operativo comincia una storia d'amore che si sviluppa nel corso di tutto il film come con alti e bassi situazioni difficili o anche situazioni molto molto carine riesce addirittura a convincere i propri amici che la sua storia d'amore con una voce samantha è simile a tutte le altre storie d'amore il film si conclude con l'inevitabile come dire allontanamento tra i due perché a un certo punto il sistema operativo smette per sua stessa come dire natura di esistere viene come dire disattivato e quindi la storia anche con samantha termina perché parliamo di questo film oggi perché parliamo del ruolo delle voci artificiali accanto alle voci umane all'interno della nostra società sicuramente le intelligenze artificiali hanno un impatto i computer hanno un impatto sempre maggiore su tutta la nostra vita inutile adesso spendere considerazioni su questo punto ma riescono ad avere un impatto sulla nostra vita anche le intelligenze artificiali quando esse hanno a che fare con la voce con la voce artificiale appunto che cerca di sostituire la voce umana diciamo che le ricerche le ricerche procedono molto su questo aspetto ci sono degli interessi anche economici molto forti che la sostengono dagli iphone del 2011 in cui è stato per la prima volta attivato il sistema siri della apple fino ad oggi sono passati circa nove anni questi studi sono andati sempre sempre più avanti basterebbe vedere quanto si può trovare anche in internet semplicemente di programmi perfino gratuiti io personalmente con la mia brevissima ricerca siamo trovati intorno ai 19 20 gratuiti e quindi non parliamo di programmi di altissimo livello per i quali bisogna anche avere un impegno economico programmi di text to speech cioè programmi che riescono a trasformare quello che tu scrivi al computer in qualcosa di parlato sono programmi molto importanti soprattutto perché vengono incontro a chi ha problemi come bambini ragazzi in età scolare che soffrono di dislessia per esempio oppure tutti gli studi sulla capacità delle voci artificiali della capacità delle voci sintetiche pensate a quanto valore ha per gli studi che portano alla realizzazione che ne so di laringi artificiali che servono appunto a coloro che hanno che non riescono a utilizzare la propria voce devono sostituire appunto la laringe vera e propria fate anche un giro per esempio sul sito di del gruppo a cappella un gruppo europeo diviso tra belgio svezia e francia che da oltre 30 anni si occupa di realizzazioni di voci artificiali andate nello spazio dedicato alle demo e troverete qualcosa di assolutamente sorprendente dunque la nostra società vive sempre di più anche di voci artificiali queste voci artificiali sempre più più sottilmente precise sempre più capaci di assomigliare alle voci umane ma potranno davvero le voci artificiali sostituire le voci umane diciamo che questo è il sogno di tutto il mondo della robotica perché nel momento in cui un robot riuscirà ad avere una propria voce che gli permette di intervenire di dire tutto quello che vuole dire in una determinata occasione probabilmente certi limiti certi confini saranno definitivamente superati ma la riflessione che vi voglio sottoporre oggi è proprio questa può la voce artificiale sostituire davvero la voce umana io credo di no e lo dico a partire da un elemento che è proprio nel film di cui parlavamo prima all'inizio del film poco poco dopo l'inizio quando cominciano i primi dialoghi tra il protagonista e samantha samantha dice che lei quando quando il protagonista si meraviglia del fatto che samantha riesca a dire tutto sappia interagire in ogni modo in qualsiasi sappia interagire in tutti i modi samantha spiega le proprie capacità dicendo che lei con gran fatica sta facendo e accumulando esperienza è proprio questo il punto quello che la voce artificiale non avrà mai rispetto alla voce umana è la capacità di accumulare esperienza accumulare esperienza per la nostra voce significa che essa nel corso di tutta la nostra vita si modifica si trasforma si adatta alle situazioni riesce a esprimere sempre di più l'identità della persona alla quale appartiene perché accumula le esperienze che la stessa persona vive mentre la voce artificiale tutto questo non potrà farlo mai la voce artificiale sarà migliore o peggiore in base alle capacità tecnologiche tecnologiche che ci sono alla base ma non riuscirà ad accumulare l'esperienza che le serve per essere davvero identitaria per esprimere davvero un identità esistono tanti programmi in rete che per esempio permettono di scrivere addirittura delle poesie direttamente affidandosi all'intelligenza artificiale ma le poesie che vengono fuori sono ben composte da un punto di vista per esempio tecnico e metrico ma che non tradiscono appunto nessuna vera identità faccio riferimento anche uno studio del 2008 del del max plank institute un esperimento in cui fu mandata della della musica atonale quella di schoenberg per intenderci a degli ascoltatori eseguita da un pianista reale e da un'intelligenza artificiale e si era scoperto che quando si diceva l'ascoltatore che stava ascoltando schoenberg suonato da un pianista reale si metteva in moto all'interno del cervello la quella parte destinata a cercare di scoprire quali fossero le emozioni quali quale fosse il messaggio dietro la musica suonata questo non accadeva quando l'ascoltatore sapeva che suonare era l'intelligenza artificiale questo vuol dire che noi come esseri umani cerchiamo di arrivare a un messaggio un'identità un valore che invece non riconosciamo appunto alla macchina l'intelligenza artificiale e quindi nonostante la storia del film sia una storia molto carina dove 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 l'amore sboccia fra un essere umano che già usa la voce di suo e un sistema operativo al di là della probabile impossibilità di una storia del genere c'è da dire che la voce artificiale per quanto molto presente nella nostra vita non potrà mai sostituire la voce umana e qui mi fermo ci diamo appuntamento al prossimo al prossimo al prossimo incontro ricordatevi di seguire la voce suono su canale se canale di spreaker la voce suono la pagina di facebook la voce suono punto wordpress.com la voce suono ancora il canale youtube la voce suono ancora il canale telegram ciao a tutti ciao 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 ciao